Molte persone mi chiedono costantemente se mangiare prodotti per celiaci fa dimagrire. Allora io rispondo sempre la stessa cosa, assolutamente no. Molte persone sono convinte che gli alimenti creati e nati per le persone che soffrono di celiachia siano in realtà alimenti per dimagrire. Non è assolutamente così, anzi molto spesso è il contrario. Gli alimenti per celiaci sono diventati negli anni un grandissimo business. Infatti quando sono nati ce ne erano circa 280, adesso ne contiamo quasi 6.500. Quindi l'offerta per persone che soffrono di celiachia è aumentata a dismisura. Ma questo perché l'industria alimentare si è resa proprio conto che c'è anche una grandissima richiesta di alimenti per celiaci anche da parte di persone che non soffrono di celiachia. Ma perché questo? Perché noi siamo convinti che mangiare senza glutine può far dimagrire. E in realtà non è così. Anzi, al contrario, i prodotti per celiaci molto spesso fanno ingrassare. Vi spiego anche perché. Innanzitutto i prodotti per celiaci nascono per evitare che le persone che hanno delle reazioni molto gravi all'interno dell'organismo, delle reazioni intestinali anche molto forti, possono essere danneggiati dalla proteina del glutine. Quindi la proteina del glutine viene tolta dal cibo e viene sostituita con qualcos'altro. La proteina del glutine, oltre ad essere un grandissimo saziante, sebbene è una proteina altamente infiammatoria di tanti organismi, è anche un emulsionante, un addensante e un conservante per i cibi, cioè viene addizionato ai cibi per dare loro una particolare forma, densità, sostanza. Nel momento in cui la proteina del glutine viene a mancare, deve essere sostituita con altre cose, che molto spesso sono zuccheri, sono grassi, sono addizionanti chimici che fanno tantissimo male alla salute, oltre al fatto che proprio si vanno ad accumulare in un organismo facendosi che la persona riassuma questi alimenti in grassi. Quindi è veramente errato pensare che gli alimenti privi di glutine siano alimenti per dimagrire. Devi sapere che molto spesso gli alimenti per celiaci, quindi sono maggiormente prodotti e realizzati con l'uso di riso e l'uso di mais. Questi due cereali, pur non contenendo glutine, anzi proprio perché non ne contengono, hanno un indice glicemico elevatissimo, quindi sono in grado di portare dei disturbi del benessere, come può essere anche per esempio l'aumento del diabete o comunque un problema legato all'assimilazione degli zuccheri nel sangue. I picchi glicemici, nel momento in cui noi mangiamo un alimento gluten free, prodotto appositamente per i celiaci, sono veramente enormi. E questi picchi glicemici ci lasciano delle conseguenze nell'organismo. La prima è la mancanza di energia, perché noi nel momento in cui assumiamo quel cibo, ci sentiamo magari un pochino bene, ci sembra che le nostre cellule stiano beneficiando di quell'alimento, in realtà dopo pochissimo tempo c'è un calo dovuto proprio al calo di zuccheri nel sangue. Già questo è uno dei primi effetti. Poi non sono assolutamente cibi sazianti, non hanno fibre, avendo appunto questa assenza di fibre ed essendo veramente colpevoli di un aumento del picco glicemico istantaneo, non lasciano senso di sazietà, non hanno consistenza, nella bocca si spappolano subito, quindi non danno anche lo stimolo della masticazione, quindi è difficile anche che il nostro corpo riesca ad estrarne dei benefici attraverso l'aptialina, quindi l'uso della masticazione, attraverso l'enzima che noi abbiamo nella saliva. E questo è soltanto uno dei problemi. Ma perché utilizzare alimenti per celiaci se non siamo celiaci? Innanzitutto la celiachia è un'allergia che va diagnosticata con degli strumenti, non ci si può autocertificare celiaci. E il consumo di un alimento per celiaci non è giustificabile dal fatto che noi pensiamo di essere intolleranti al glutine, perché l'intolleranza e l'allergia sono due cose completamente diverse. Richiamano stimoli da parte dell'organismo e del sistema immunitario diversi e l'intolleranza è qualcosa di più leggero se vogliamo, anche se costante, protratto nel tempo, ma che può essere risolto non soltanto togliendo il glutine o escludendolo per un certo periodo dalla dieta, ma può essere risolto sistemando, diciamo non bisogna soltanto occuparsi dell'ospite, in questo caso del glutine, ma anche di chi ospita, quindi il nostro terreno, il nostro organismo e soprattutto il nostro intestino. In effetti per le persone intolleranti, e non sto parlando dei celiaci, le persone intolleranti che basano le loro scelte terapeutiche, diciamo semplicemente escludendo il cibo assente di glutine per un certo periodo e poi lo reintroducono senza essersi occupati di sistemare il terreno, quindi il proprio organismo, non hanno dei benefici a lungo termine, quindi la reazione infiammatoria che può portare un alimento con il glutine, ricapita, risuccede, riavviene. Quindi la prima cosa, se pensi di essere intollerante al glutine, devi sistemare la salute del tuo intestino. Se non pensi di essere intollerante al glutine, ma lo fai soltanto per dimagrire, non mangiare cibi per celiaci. Innanzitutto, un'altra cosa importante, sono molto cari. Sono cari proprio perché hanno un metodo di preparazione un po' particolare, ma soprattutto perché appunto dovrebbe essere il loro consumo, soltanto per le persone che hanno effettivamente bisogno, tant'è che il sistema sanitario nazionale dà proprio delle certificazioni, delle riduzioni nei prezzi, proprio alle persone che in altro modo non possono mangiare. E' molto più semplice per queste persone rivolgersi ad alimenti che certamente, sicuramente, garantito al 100%, non avranno presenza di glutine, pena lo scatenarsi di reazioni incontrollabili e molto spesso pericolose nel loro corpo. Ma se tu non hai questo problema, non hai ragione di consumare questi cibi che ti stanno, se lo stai già facendo, ti stanno causando dei danni nel metabolismo. Come ti ho detto, ti gonfiano, non ti saziano, alzano il picco glicemico. Poi, da recenti scoperte, è venuto praticamente fuori che innanzitutto il mais è molto glutinosimile, quindi si sta rivedendo un po' anche nell'alimentazione per celiaci l'uso costante e veramente abbondante del mais. Anche perché non stiamo parlando di un mais, di una pannocchia raccolta in Guatemala, stiamo parlando di un mais, molto spesso GM, di colture intensive che vengono prodotte in maniera così veloce e la proteina del mais diventa veramente ricca, tantissimo ricca di elementi che ricordano molto il glutine. Per cui alla lunga diventerà anche questo un prodotto sicuramente da rivedere, il mais usato per i celiaci. Per quanto riguarda il riso, che anch'esso viene spesso utilizzato per i celiaci, è uno degli alimenti a più alto indice glicemico, quindi arriva subito lo zucchero direttamente nel sangue. Quello zucchero che ti arriva fa sì che il tuo corpo lo raccolga sotto forma di grasso, soprattutto addominale e viscerale e quindi tu invece di andare a correggere un problema lo hai amplificato. Se sei interessato a perdere peso attraverso l'alimentazione, che è la cosa primaria, la funzione primaria, inizi a sostituire molte delle tue fonti di carboidrati con delle proteine di alto valore biologico. Per esempio potresti, se sei onnivoro, aumentare la quota delle uova, del pesce, un po' di carne bianca, raramente carne rossa. Se sei vegetariano aumenta la quota delle proteine vegetali, come i legumi, i semi di chia, i semi di canapa, ma evita di introdurre nella tua alimentazione troppe fonti di carboidrati. Poi aumenta la quota dei grassi. La quota dei grassi che comunque deve essere circa di un 20-30% al giorno come minimo e vedrai che non soltanto non avrai i pericoli, non correrai i pericoli che corre una persona che invece per dimagrire sta assumendo prodotti per celiaci, ma vedrai ridursi il senso di fame, aumentare quindi il senso di sazietà, aumentare l'energia del tuo corpo e avrai dei grandissimi benefici. Ma mi raccomando, non mangiare alimenti per celiaci, non comprare alimenti per celiaci, perché in realtà stai soltanto danneggiando la tua salute. Se vuoi correre ai ripari, segui questi consigli.